Ciao amici, sono Sam di Fuoriestrada e oggi vi parlo di TCX. Lo faccio con i nuovi Clima 2 Surround Gorotex. Ed eccoli qui. Clima 2 Surround sono degli stivali a mezza altezza pensati per il turismo, con la parte che poggia sul terreno Ground Tracks, ideata per avere il massimo grip su tutte le superfici, e con questi buchi, da cui il nome Surround, per poter far passare l'aria anche sotto la pianta del piede. Con una tomaia realizzata in tessuto laminato, questo stivale è leggero, protettivo e resistente all'acqua, ma allo stesso tempo anche traspirante. La parte dell'interno gamba è protetta anche dal calore generato dalla moto, tramite questa fascia paracalore. E in più, sulla parte del collo del piede, internamente, abbiamo l'elasticizzazione a soffietto, di modo da consentire un facile cambio marcia. Come tutti gli stivali, sulla punta troviamo un rinforzo semirigido, di modo da far durare molto di più lo stivale, e ovviamente non mancano le classiche protezioni su punta, tallone e caviglie. In questa parte, infatti, lo stivale è più rigido. Non abbiamo uno snodo, perché appunto questo stivale deve essere comodo anche per poter camminare, però abbiamo una protezione in più sulla parte sotto il ginocchio, anch'essa rigida. Internamente lo stivale ha una fodera mesh, unita alla fodera Gorotex, che appunto permette traspirabilità e impermeabilità. Troviamo anche parti caterinfrangenti sul collo del piede e sulla caviglia, e sulla parte più esterna abbiamo ovviamente il velcro di chiusura regolabile, per tenere più largo o più stretta la chiusura, di modo da infilare il pantalone all'interno dello stivale. Abbiamo questa parte super traspirante, derivante dagli stivali da Corsa TCX di RT Race, e ovviamente anche la cerniera, che ci consente di aprire lo stivale per indossarlo con una maggiore comodità. Come si può vedere, questa è la parte rigida della protezione di cui parlavamo prima. La fettuccia della cerniera è in velcro. L'intersuola è realizzata in EVA, e all'interno il plantare è curato da ortholite. Adatto quindi a tutte le stagioni, Klima 2 Surround è consigliato al motociclista, che vuole fare tanto turismo, senza rinunciare alla comodità, anche quando scende dalla moto. Klima 2 Surround è disponibile dalla taglia 36 alla taglia 48, in quest'unica colorazione black grey. Se sei curioso quindi di venire a provarlo, ti aspettiamo presso Fuori e Strada, in via Salvella 9, a Rovato, Brescia. Se il video ti è piaciuto, ti chiedo di lasciare un mi piace. Se hai qualche curiosità in merito a questo stivale, o agli altri prodotti, utilizza pure la sezione qui in basso dei commenti, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao motociclista! Il meglio al miglior prezzo. Il meglio al miglior prezzo. Grazie a tutti.